Sono Martina Russo della rivista Andersen. Il festival mi è sembrato veramente molto bello, un'occasione per recuperare i giochi della tradizione, coinvolgente e divertente. Il festival ha una valenza molto importante dal momento che ci fa scoprire magari attività, giochi diffusi in tutta Italia ma che pochi conoscono e che quindi è molto importante condividere e provare anche. Mi aspettavo appunto di vedere tante cose nuove, di conoscere tanti giochi e di incontrare tante persone ed effettivamente questa aspettativa è stata assolutamente rispettata.